Buonasera da meteo.it. Il tempo è molto instabile sul nord Italia con forti temporali in atto, locali grandinate e anche raffiche di vento. Tutta colpa della quarta perturbazione di luglio che domani già si allontanerà dal nostro territorio lasciando molto spazio per il sole. Ci accorgeremo di un sensibile calo delle temperature sul nord Italia, anche sulle regioni centrali adriatiche, mentre il caldo intenso per ora insisterà sul Lazio al sud e anche sulle isole maggiori con punte intorno ai 35-36 gradi. Del resto sarà una domenica di sole, vi segnalo solo qualche annuvolamento mattutino sul Piemonte occidentale e anche sulle regioni centrali adriatiche con qualche locale pioggia sui settori interni tra Marche, Abruzzo e Lazio. La prossima settimana poi inizierà in modo molto tranquillo, tanto sole, qualche temporale sulle Alpi e temperature che resteranno nella media stagionale.